Il prisma. Un prisma è un poliedro limitato da due poligoni congruenti similmente disposti su piani paralleli e da parallelogrammi ottenuti congiungendo i vertici corrispondenti dei due poligoni. Le basi sono in questo caso i triangoli ABC e ABC'. Gli spigoli di base sono i lati dei triangoli. Le facce laterali sono i parallelogrammi ABB'A, BCC'B, ACC'A, che possiamo vedere. Gli spigoli laterali sono i lati dei parallelogrammi, come possiamo vedere. I vertici sono i vertici delle figure piane. La superficie laterale è l'insieme delle facce laterali del prisma, come possiamo vedere. La superficie totale è costituita dall'insieme delle facce laterali del prisma e delle due basi. L'altezza del prisma è la distanza tra i piani paralleli su cui giacciono le due basi, come possiamo vedere in figura, e che formano angoli di 90 gradi. E questa è la visione frontale. Il prisma retto si può definire tale se gli spigoli laterali sono perpendicolari alle basi. In questo caso le facce laterali sono dei rettangoli e l'altezza coincide con uno o qualsiasi degli spigoli laterali. Un poligono si dice regolare se è retto e se ha per basi due poligoni regolari. In questo caso le facce laterali sono rettangoli e possiamo vedere in questo modo la visione su un piano dei rettangoli. Il prisma può essere anche obliquo se gli spigoli laterali non sono perpendicolari alle basi. Ci sono diversi tipi di prisma e dipende dalla base. Come possiamo vedere può avere la base quadrata, pentagonale, a esagono, a rettangolo, a triangolo, scaleno, rettangolo, equilatero o isoscele. In questo caso vediamo invece il prisma a base trapezio isoscele nel primo caso, trapezio rettangolo nel secondo caso.